e benvenuti ragazzi su questo nuovo scontro su wwe 16 e vedrete combattere gabba e matt morgy del canale dark gamers e il titolo di dark soul king questi due giocatori di dark soul i migliori ti sfideranno per stabilire chi è il più forte e a che va la cintura di dark soul quindi che abbia inizio questo scontro epico e spero che a gamba e a matt morgy piacerà questo scontro quando lo venderanno quindi via sì ah e il match sarà un match i quit il primo che si arrende perde a a a a a a a a Grazie a tutti 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 Ciao